Santa Teresa d'Avila ha la visione di un angelo sul punto di trafiggerle il cuore con un dardo d'oro. Cedendo a un abbandono fisico e spirituale simbolo del suo amore per Dio, la santa esprime apertamente l'intensità della sua esperienza mistica. Il gruppo Marmoreo è un perfetto esempio dello spirito barocco ricco di dramma, emozione e movimento. Del resto Bernini è stato uno degli artisti più rappresentativi del barocco italiano. Nel virtuosismo e nella perfezione delle sue statue si coglie qualche elemento dello stile di Michelangelo, così come della statuaria antica combinati con lo stile di pittori contemporanei quali Caravaggio, Annibale Carracci e Guidoreni. Architetto e scultore, a questo artista è dedicato sul canale YouTube di Artesplorando una playlist intera.